Mostro Chiocciola Avanti Bionda, 9 ore 27 maggio 2023 A Meloni che le tasse sono pizzo di Stato, sfugge che lo Stato che lei amministra, con le tasse paga sanità e scuola pubbliche, servizi, pensioni. Ah, già, a lei questa roba non interessa, il suo impegno è la caccia agli immigrati, togliere diritti e le armi di crossetto. Pierluigi Chiocciola Pierlui 7 8 8 0 1 6 1 2, 4 minuti. Replying tu Chiocciola Avanti Bionda. Di sicuro parla a e per gli imprenditori che hanno i soldi per pagarsi i servizi dello Stato con servizi privati, a parte qualche piccolo imprenditore che poi si ritrova con una pensione da fame perché ha versato per quanto poteva il minimo di contributi.